Ogni filo racconta un'eleganza senza tempo. Infatti qui il tempo si ferma per dare vita a cravate che sono più di semplici accessori. Sono l'espressione di uno stile unico. Oggi vi porto alla scoperta di San Severino, eccellenza napoletana nel mondo. Tutto inizia nel 94, un cambio di vita radicale, quando Salvatore San Severino sceglie di fare della sua passione il suo lavoro. Le cravate San Severino hanno impreziosito i complessi di alte cariche politiche in tutto il mondo e il brand vanta di aver avuto il privilegio di aver accompagnato eventi fondamentali e di grande spessore. Partendo da una tradizione solida, oggi l'azienda sta aprendo la sua visione ad un business più moderno, ampliando anche la gamma di prodotti. Tutti disponibili sul sito online. Ma è dal vivo che puoi vivere una vera e propria esperienza. Con la massima riservatezza e tranquillità, sorseggiando un espresso napoletano e consigliato da professionisti esperti. Entrate a far parte della famiglia San Severino.